Ciao a tutti, siamo i Bastardsons of Dioniso e vogliamo dedicarvi un nostro brano per commemorare questo 25 aprile così particolare. Un giorno che ci ricorda il valore della libertà e del prezzo che è stato pagato nel nostro recente passato per riconquistare un'identità che era stata travisata e si era perduta, ma si era ritrovata nella resistenza. La lotta non può mai assopirsi, questo ci ricorda questo giorno. Dobbiamo essere sempre in prima linea a combattere a ogni istinto che possa ledere quello che è il significato di Italia e di Europa. Sembra semplice a volte girarsi dall'altra parte e fare finta di nulla, ma il nostro posto è qui, in prima linea, in trincea. Buon ascolto. Cosa vuol dire andare? Se non si può tornare dall'inferno non si porta a casa un bel souvenir, la tortura è restare, la paura è sparire, come puoi portare un nome senza un'identità? Non è nella mia natura. Cosa vuol dire andare? E dove scappo adesso? E dove scappo adesso che hai sottotiro solo me? E dove scappo adesso che hai sottotiro solo me? E dove scappo adesso che hai sottotiro solo me? E se non si era capito? E se non si era capito sarò io a scavarmi il buco? Ora il tuo sguardo non ha pietà, come il tuo spallo non ha pietà. E... E sto aspettando solo te... Neanche il tempo di capire... Neanche il tempo di capire... E devo già lasciarti andare... Neanche il tempo di capire... E dove scappo adesso... E dove scappo adesso che... E sto aspettando solo te... E sto aspettando solo te... E sto aspettando solo te... E adesso faccio, non ha pietà... E' subettando solo te... E tu anche capaci che... E avvenire... E' da via...